Ciao amiche, sono tornato per un nuovo look della primavera estate 2018 e vediamo un abito bianco con una grande stella, molto easy, molto sportivo lo stiamo vedendo indossa la nostra bellissima e bravissima Elena Russo e questo è un abitino veramente adatto a tutte perché essendo a sacchetto veste tutte le fisicità poi vedete come è carino ha questi dettagli ovviamente in maglia, trucco e molto sport quindi se vi piace vestirvi sportiva ed essere comode ma con quel tocco glamour ecco qui che ho trovato il vestitino e la linea per voi, Paola T mi raccomando continuate a seguire guarda io però ho messo il tacco, a me neanche col tacco certo, Elena ha sdrammatizzato e ha messo un tacco perché sì perché oramai possiamo unire tutti gli stili che vogliamo perché ricordatevi che l'amore e la tendenza la facciamo noi ciao fantastico 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 fantastico